Onorevole Presidente, vorrei sapere da lei qual è la fonte di tutto questo fango riversato sull'Albania e sul Presidente Rama dal momento in cui voi insieme avete firmato questo accordo. Si tratta di un attacco orchestrato dall'opposizione del suo paese che si oppone a questo accordo oppure si è di fronte a un capriccio giornalistico come quello della trasmissione Report su Rai3. Guardi, l'ho già detto nel mio intervento, io penso che la vera ragione non sia chiaramente attaccare il governo albanese, attaccare il popolo albanese, credo che ci siano legittimamente per carità delle posizioni in Italia che sono diverse, che sono ostili all'attuale governo italiano e che quindi diciamo mediano il loro punto di vista su quello che fanno anche gli altri in base alla loro personale posizione. Per carità, è legittimo, io credo che in questo ci sia un elemento che va valutato nel momento in cui si mette in mezzo per attaccare il governo italiano un partner internazionale perché si rischia di non fare un danno al governo italiano, si rischia di fare un danno all'Italia perché se qualcuno che è solidale con l'Italia, indipendentemente dal merito che l'accordo che si fa, viene chiaramente inserito in una lotta nel fango che è tutta italiana, il rischio che domani diciamo siano meno le nazioni che sono disponibili a stringere accordi con noi è un rischio reale, quindi si rischia di fare un danno alla nazione fermo restando che insomma lo scontro politico, questo è tutto perfettamente legittimo, ecco io lo avrei concentrato sul governo italiano trattandosi di stampa italiana ma evidentemente si è fatta un'altra scelta più che continuare a esprimere la mia solidarietà e a smontare queste accuse come secondo me ha fatto molto bene il primo ministro, purtroppo non posso fare, mi auguro che questo non comprometta per il futuro l'attenzione che invece l'Italia riesce ad avere insomma quando fa delle proposte che sono pragmatiche, su questo sicuramente un richiamo di tutti a non rischiare mai che per legittimamente contrastare quello su cui non si è d'accordo o quello che fanno i governi con i quali non si è d'accordo possa compromettere l'interesse nazionale nel suo complesso, ecco questo è un limite che io mi sono sempre data quando ero all'opposizione e che non sempre vedo attualmente.